Antonio Sapienza è il presidente del nuovo Inter Club dedicato a Marco Materazzi, una nuova realtà che si è strutturata con numerosi, quasi 70 iscritti. State muovendo adesso i primi passi, qual è stato il senso di questa vostra unione, oltre ovviamente alla passione calcistica, e cosa farete nei prossimi tempi per tenere vivo questo club appena nato? Come si suol dire in questi casi nasce tutto al bar, nel senso che un po' di amici mi avevano detto dopo un po' di passione sopita, perché gli anni gloriosi dell'Inter dal 2010 in poi erano crollati, un pochettino mi dicevano ma ricominciamo, visto che tifare, aprire un club significa sperare che le cose vadano meglio per il futuro. E quindi così, partendo per gioco, ma soprattutto con la sambatia di tanti amici, l'anno scorso siamo partiti con un'esperienza da fans club, quest'anno ci siamo accreditati al centro coordinamento di Milano, i 70 sono quelli che fondamentalmente è la nostra prospettiva, nel senso che il fan club l'anno scorso contava 70 senior e ci dobbiamo attestare necessariamente sui stessi numeri, però vedo che già godiamo di molta simpatia. Marco Materazzi verrà a Caltanissetta? E questo è evidente, è una promessa che io mi sento di fare a tutti i tifosi dell'Azzurri Nisseni, nel senso che è il minimo che il Presidente deve tentare di portare a termine, è una cosa che faremo un po' più in là, prima lo fruttureremo, lo metteremo in piedi e poi magari, chi lo sa, verso Natale inaugureremo con Marco questo club. Andrete a vedere comunque le partite più importanti, perché chi fa parte dei club di solito ha una scontistica sui ticket, sui biglietti, no? Più che una scontistica parliamo di benefits, nel senso che far parte di Winter Club significa essere un socio ufficiale degli oltre 1500 club al mondo e significa godere dei gadget che vengono forniti direttamente da Milano, sono tutti prodotti ufficiali, di una scontistica sul merchandising e su una biglietteria riservata, nel senso che chi è iscritto a un club ha la possibilità di accedere, di procurarsi, diciamo, tra virgolette, il biglietto prima degli altri. La vostra sede dove si trova? In via Renato Cuttuso, noi l'abbiamo chiamata così un po' la sede storica dell'Inter Club a Caltanissetta e c'è gente che ci perde tempo, tanta passione, fa bricolage, perché è un modo bello per stare insieme.